Dopo oltre otto anni, Navescuola Merigo Vespucci ritorna a fare tappa per la quindicesima volta nella città di Trieste. La sosta nel porto Friulano, dal 12 al 16 maggio, si inquadra all'interno della campagna per l'85esimo anniversario d'Alvaro, che vedrà il veliero della Marina Militare fare tappa in diversi porti italiani. Lo storico ritorno del Vespucci a Trieste ha rappresentato inoltre un'opportunità di arricchimento culturale. Durante la conferenza stampa dell'Unità, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi e del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, è stato inoltre presentato il manifesto della 48esima edizione della Barcolana, evento unico nel panorama velico internazionale che unisce ancora oggi sport e tradizione. È stata una giornata particolare, una giornata straordinaria, un sogno che si realizza per noi di Barcolana, poter presentare il manifesto dell'edizione 48 e sulla nave più bella del mondo è stata un'emozione e un grandissimo onore. Diversi momenti d'incontro a sfondo sociale sono stati organizzati in occasione della sosta in porto, come la raccolta fondi per Teleton ed il seminario Ecologia Blu. Il WWF Italia, l'Università degli Studi di Trieste, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia hanno fatto un approfondito punto di situazione sulla salute dei mari italiani e gli oceani, l'ecologia della pesca a Trieste e la riserva marina di Miramare. Il legame con la marina militare ci ha visto lavorare insieme con nave Retusa, nave Galatea per la caratterizzazione dei fondali del nostro Golfo di Trieste. Abbiamo fatto anche un'attività di formazione insieme a WWF e a nave Palinuro, in questo caso per la raccolta di campioni su cui noi poi abbiamo determinato la presenza di specie tossiche. Già nel 78, appunto, con la campagna del WWF Italia Il mare deve vivere, partiva da Trieste questa collaborazione, questa partnership ormai storica tra WWF e marina militare che in giro per l'Italia vanno a sensibilizzare sulla conservazione dei mari italiani. 12.000 cittadini hanno salutato la nave più bella del mondo attendendo diverse ore prima di salire a bordo per ammirare le armoniose attrezzature e i dettagli curati con artigianale passione. Molto bella, molto bella, affascinante. È un orgoglio italiano. Non l'avevo mai vista e sono rimasta molto contenta di averla visitata. Finalmente sono riuscita a vederla, è una cosa unica. Gli ottoni, tutti lucidati, meraviglioso, veramente. È un orgoglio nostro, assolutamente. Era molto curiosa, dicono che è la nave più bella del mondo, quindi ho detto è qui a Trieste, me la vado a vedere. Consiglio a tutti di visitarla. Molti, adulti e bambini, fanno della loro visita a bordo un sogno ad occhi aperti. Rincarna un po' quelli che sono i sogni di bambino, no? Da grande vuole diventare un marinaio. Grazie. 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 Grazie.